Un negozio di animali! Wow! Guardate questi Jacky dal buffo aspetto amici miei! Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui! Ehi! Spostati per favore maiale grande! Questa deve essere mamma maiale! Ma perché non ci lascia passare? Per inciso non preoccupatevi per quel lupo affamato sei aggrappata a un arbusto e non morirà di fame perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno!